Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi con Isotta E finalmente, con quegli altri video, c'è anche Cesare, Cesare, Cesare C'è anche Cesare, e io? Eh? Che non c'ho chi niente ormai? No, non è quello, è che dobbiamo variare un pochino Abbiamo cominciato a tradurre Cesare, no? Quindi, questo video lo faccio con te Oh, era ora, ecco, era ora Perché lo facciamo? No, è un video semplicemente nostalgico, no? Perché l'altro giorno vedevo che rinissera una nuova edizione di Italia's Got Talent Ah, sì, sì, mi ricordo Ecco, e tutto, siccome tutto iniziava da là per noi è stato un po' un colpo al cuore, no? Sì, sarebbe bello tornarsi, sarebbe bello fatto Però, chiaramente noi non possiamo rifarlo Non ti voglio Eh, eh, eh Ma sì, non ti voglio, non è no Ma veramente proprio a te Vabbè, dicevo, non possiamo rifarlo, purtroppo Però è stato un po' un gancio, no? Che gancio? Quei sei un gunti, gunti, gunti No, un gancio in quel senso, un gancio emotivo E ho pensato quanto tempo è passato Un gancio tantissimo Eh, l'abbiamo fatta di strada Di strada, siamo sempre qui In studio, studio è sempre quello Sì, l'abbiamo fatta di strada Non in quel senso, non in senso proprio fisico In senso figurato Ah, in senso figurato, sì Eh, vedi In certe figuracce Ma no Tu soprattutto, eh No, dai, hai fatto la fine Allora, basta, basta, basta Bene, con l'occasione è bello anche cominciare a pensare nuovi progetti 2020 O ci sia nello scazio Beh, è una cosa simile Dai, c'è qualcosa che ha a che vedere con Beh, non possiamo anticipare troppo Stiamo preparando un nuovo spettacolo Sì, esatto Dove ci sarà? Ci sono io Anzi, lo spettacolo è tutto mio Non è proprio così Oh, ci sto anch'io Ci sta chiaramente anche Cesare Sì, certo, Cesare E ci sono anch'io Carlo Alberto Carlo Alberto Sta zitto che tu non quali niente Sta zitto Non è vero Sì, ci sarà anche Carlo Alberto Come dico Hai detto che non lo portai? Sì, ho detto che lo portavo Ho detto che dovevo Aumentare i poteri personaggi Ho detto che l'avevi portato anche Carlo Alberto Col camicia Dico Che cortona Che cortona Dico Quella è dichettosa Dichettosa Sta zitta Dai Vabbè E ci sarà anche un altro personaggio Ehi Sì È un altro personaggio Lo sto di pieno Così Sta zitta Scecchietto scuso Non è vero Non è vero Sì, sì Isotta Questa è la finita E Nicoli Ti è stato Ma vabbè Protezione animale Aiuto Ma che protezione Isotta Sei una tragedia Basta, basta Fattene una finita Allora mi raccomando Quindi seguiteci Perché tra poco Ci sarà il nuovo spettacolo Disponibile Faremo anche un trailer Chiaramente In cui faremo vedere Cosa succede Durante questo spettacolo Come sarà Un spettacolo Teatrale Vero e proprio Con proprio Tutta una dinamica teatrale Ci sono io E tutti gli altri personaggi Ci sarò chiaramente E al spettacolo Lo faccio io Qui sotto Per far un battaglio Ecco Iscrivetevi al canale Qui sotto Attivate la mancanellita Così Non è vero Quanto che concluderemo Un nuovo video Bene Detto questo Ci salutiamo Ciao a tutti E mi raccomando Iscrivetevi al canale Mettete like Commentate Seguiteci Ciao a tutti Anche sulle altre piattaforme social Instagram Anche Scocotute Tiktok Tutte Da Nicola Tutte Certo Bisogna averle tutte Ciao a tutti da Nicola E ciao da Santa Ciao Ciao a tutti